Siamo con le due campionesse regionali del tennis tavolo che hanno vinto nella prova finale di Abbadia L'Ariana il campionato regionale. Partiamo con Anna, categoria ragazze, come è andata ad Abbadia? Bene. Il campionato è stato lungo, cosa ci puoi dire, qual era la difficoltà delle gare? Non so se... Giada, campionessa regionale della categoria Under 21, raccontaci un attimino la tua esperienza. Allora, quest'anno siamo riusciti ad ottenere una buona posizione sia in società, sono soddisfatta del mio piazzamento. Anche se è stata un pochino dura perché le persone che c'erano erano comunque forti, ce l'abbiamo fatta e è una soddisfazione personale. Le tre prove si sono svolte tutte regolarmente, raccontaci un attimino anche proprio come si sono svolte le prove. Allora, all'interno di ogni singola prova eravamo più categorie unite perché nelle categorie femminili i giocatori sono pochi e poi la classifica è stata fatta separata in base alle età e alle categorie vere e proprie. Grazie. Grazie.